Un buon numero di cittadini ha partecipato alla prima delle tre assemblee pubbliche promosse dall'amministrazione comunale e da sistema ambiente per illustrare la nuova raccolta differenziata in centro storico, che vedrà l'introduzione di 70 isole ecologiche e l'eliminazione del sistema di raccolta filostrada. A presentare le novità previste dalla rivoluzione della raccolta dei rifiuti che prende il nome di Garbi, l'assessore all'ambiente Francesco Raspini, Matteo Romani e Caterina Susini, rispettivamente presidente e dirigente dell'azienda pubblico privata. Una seconda novità per il centro storico riguarda la separazione del vetro dal multimateriale leggero, plastica e imballaggi in metallo e in acciaio. I cittadini dovranno conferire i prodotti in vetro nell'apposito contenitore, in modo separato dalla plastica, dal metallo e dal tetrapac. La terza novità, infine, si riferisce all'introduzione della tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta con i cittadini che pagheranno per l'effettiva quantità di rifiuto indifferenziato prodotta. Il prossimo incontro è in programma sabato 16 novembre. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito sistemaambientelucca.it.